Frase infelice, forse quell'articolo determinativo, il business, perché naturalmente c'è anche un aspetto di business, è inutile negarlo, però insomma... Ma è lì la cosa. Alessandro, prego. Cioè, la gravità se è grave, poi io non entro mai in casa d'altro, ognuno fa informazione come meglio crede, però la cosa grave, un po' vigliacca anche, è quello di non dire una cosa, insinuare un dubbio, perché se Report avesse dimostrato, cosa facilissima, che le case farmaceutiche fanno una montagna di soldi con i vaccini, è una notizia, una notizia ovvia, cioè quasi una non notizia, talmente notizia. E sarebbe come dire che le case che costruiscono preservativi hanno fatto i miliardi grazie all'AIDS. Sì, è vero, c'è una malattia e c'è un rimedio, c'è un rischio e c'è un rimedio. O che le aziende che costruiscono caschi hanno fatto il business sulle disgrazie dei motociclisti. Certo, le aziende fanno business, ma il problema è insinuare il dubbio che questo business è inutile, cioè che è solo per il business... Strumentale. No, sarebbe come dire, attenzione, non usate i preservativi, perché i preservativi non salvano dall'AIDS, i preservativi servono solo a far fare i soldi all'azienda che li costruisce. E allora questo è un po' pericoloso, soprattutto da un servizio pubblico. Roncon.